Sotto 18 Film Festival, la manifestazione organizzata da IACE con il sostegno del Consiglio regionale, giunge alla 14esima edizione e si conferma un appuntamento culturale di qualità rivolto all'universo giovanile. In questa occasione viene insegnato il premio Consulta regionale dei giovani al miglior prodotto filmografico degli istituti scolastici superiori piemontesi. Perché la Consulta regionale dei giovani partecipa a questo festival? La Consulta regionale dei giovani partecipa al Sotto 18 Film Festival perché appunto crede e vuole promuovere i giovani, i talenti, soprattutto appunto in questo campo del cinema. La Consulta dei giovani ha partecipato per diversi anni con la IACE a questa manifestazione e pensiamo che sia soprattutto una bellissima vetrina rampa di lancio.